Papà, perché picchi la mamma? Sei cattivo! Ma che stai dicendo? Non ho mai picchiato tua madre. Invece sì, l'ho sentita. E sentiamo quando? Ieri notte. Ti diceva, fai piano, non mi fai male. No, ma chi è capito? Si era solo fatto male, ecco. Le stavo curando una finita. Mmm, vabbè. Da ora e poi vorrò a controllarvi.